salve a tutti e bentornati in dolcezza e magia oggi preparo una ricetta molto popolare su tiktok toast allo yogurt ma con una piccola modifica un modo facile per realizzare qualcosa di delizioso con poco e in poco tempo cominciamo subito per realizzare questa ricetta come vi dicevo in genere si usa lo yogurt ma io ho optato per il budino perché è più veloce non bisogna addensarlo con niente ed è già pronto ma nelle note sotto al video vi lascerò anche la versione con lo yogurt qualora desideriate provarla io ho usato questo budino alpro che secondo me è buonissimo ha poche calorie e il gusto è squisito prendete del pane in cassetta che ha le fette più spesse del pan carré e mettetele in una teglia create un abballamento al centro di ogni fetta potete usare un cucchiaio oppure le vostre mani poi versate un paio di cucchiaini di budino in questo incavo e farcite come preferite io ho usato fragole e gocci di cioccolato per la versione al cacao e mirtà di cioccolato per la versione alla vaniglia e poi basta non vi resterà che infornare a 180 gradi in forno a già caldo per circa 15 minuti e questa delizia sarà pronta una volta sfornato lasciate raffreddare un po la farcitura troppo calda colerebbe tuttavia e poi sarete pronti per assaggiare questo tost alla crema delizioso croccante al punto giusto e con un cuore morbido se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale io come sempre vi ringrazio per aver trascorso un po nel vostro tempo con me a presto